Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Parliamo di Palacanestro anche questa sera, gara 3 dei quarti di finale di playoff di Serie A, la partita che ho scelto di seguire questa sera è quella tra Pesaro e la Virtus Bologna. Prima di cominciare ad entrarci nel vivo del video ricordatevi like mi piace se vi dovesse piacere questo video, grazie per iscrivervi al canale, benvenuti i nuovi iscritti e grazie infinite per il sostegno che date al mio canale. Questa gara 3, Pesaro-Bologna, una rivalità straordinaria, prime due partite molto interessanti, la prima soprattutto molto combattuta, la seconda vinta molto più facilmente dalla Virtus, anche questa sera la Virtus ha portato a casa la missione che era chiudere in tre partite la serie, ha vinto 55 a 75, ma non facciamoci trarre in inganno dal punteggio perché il primo tempo è stato strepitoso. Io mi sono divertito veramente tantissimo, sapete poi sono un nostalgico di quando ero giovane, della pallacanestro degli anni 80-90, Pesaro-Bologna era una grande rivalità di quei tempi, adesso lasciamo perdere il confronto del 2002, ma è il punto più a grande, ci furono sfide in semifinale, la finale del 94 tra queste due squadre che fu una serie bellissima che finì la quinta partita, è molto molto bella, molto combattuta, stasera ho trovato gli elementi di questa rivalità, Luca Banchi ha fatto veramente un capolavoro nel riportare Pesaro al livello che merita, io sono veramente felice da amante della pallacanestro, da spettatore neutrale, da amante di questo gioco, di ritrovare una piazza così importante a un livello così buono, credo che ora bisognerà lavorare per fare il passo in più ed è stato strepitoso come le due squadre hanno affrontato in questo primo tempo bellissimo, con una grinta, una combattività, aiutati anche da un arbitraggio, anni 90, perché momenti di lotta libera, momenti veramente nei quali valeva sostanzialmente tutto, grande anche nervosismo, un duello tra Hackett e Moretti strepitoso, un primo tempo veramente a mio avviso il più bel primo tempo di questi playoff da dura, 35 pari il punteggio, equilibrio anche nei dati statistici della gara, poi però nel secondo tempo ovviamente è venuta fuori la maggiore forza della Virtus, squadra più lunga, più profonda, più forte ovviamente, che ha vinto il secondo parziale, il secondo tempo per 40 a 20, la Scavolini è stato 10 punti nel terzo quarto, 10 punti nel quarto quarto, quindi la Virtus ha messo insieme la difesa, ha alzato il livello, in attacco JT e Hackett soprattutto hanno tracciato il percorso e non c'è stato poi più possibilità per Pesaro di riuscire a opporsi, ed è venuto questo successo importante, 3-0 nella serie, Virtus ora che quindi ha la possibilità di riposare finalmente un po' che era il vero grande obiettivo di questa serata, Virtus che arriva da questo momento strepitoso di vittoria, per poi arrivare alla vittoria del Euro Cup, queste vittorie in campionato, questa intensità che mette in ogni partita, ora ha affrontato questa serie senza Teodosic e senza Schengheglia, ha rimesso insieme le gerarchie, io sono sempre ammirato dalla mentalità di questa squadra che è veramente strepitosa, percentuale di tiro, Pesaro 42% da 2, 20% 5 su 25 da 3, gara 1 aveva tirato molto bene a 3 punti, è stata in partita, gara 2 molto peggio, gara 3, la percentuale è bassa, alla lunga fa fatica, ha perso molto a rimbalzo, 32 contro i 46 della Virtus, palle perse, 9 di Pesaro, 10 di Virtus e questo è molto positivo per anche definire la qualità del gioco, Bologna ha tirato con 49 da 2, ha tirato col 33, 8 su 24 da 3, dopo un primo quarto soprattutto nel quale aveva tirato benissimo, dalla lunetta al solito 15 su 20, 75% bisognerebbe fare quel qualcosina in più forse della lunetta, il mio MVP di giornata è comunque Hackett, 12 punti, 5 su 6, 5 rimbalzi, 17 di valutazione, strepitoso per mente, bellissimo davvero il duello con Moretti, nel quale è uscito molto bene anche Moretti che ha giocato con una grinta, con un'intensità, con una forza che mi ha veramente colpito questo ragazzo, soliti giocatori che si perdono quando finiscono nel magma milanese, e Moretti wow ragazzi, che prestazione, che personalità, bravissimo, Market straordinario. Decisivo Jaité, 15 punti, 6 su 8, meglio al tiro libero, anche 3 su 4 questa volta, e mi è piaciuto molto anche stavolta Cordinier, per lui 6 punti, 8 rimbalzi, un buon 18 di valutazione, e un altro giocatore che sa mettere quella marcia più in più in difesa. Niente male anche a stavolta la prova di Ali Begovic, che ha sfruttato molto bene i minuti in più che gli sono arrivati dalla mancanza di Scengeglia, e anche Ervei oggi, 7 punti, 7 rimbalzi, devo dire che l'ho trovato in crescita, è un giocatore che sta crescendo, ci sarà molto bisogno di lui nella serie di semifinale. Bellinelli, 11 punti in 20 minuti, questa capacità anche di portare a casa falli dalle situazioni di tiro, molto importante, distratto Samson, forse l'unica nota non positiva della Virtus di stasera è una prestazione di Samson un po' anonima, che non mi ha particolarmente impressionato, Paiola ha trovato anche finalmente il canestro dal campo dopo aver segnato solo dalla lunetta nelle partite delle prime due partite, Pesaro bene, bravo coach Banchi, veramente capolavoro, coach of the year per me, ancora di più di Ramondino a Tortona, bravissimo a rilanciare una squadra, una piazza, a portarla qui, spero, adesso non ho ben presente la condizionazione contratuale, spero che il progetto pesarese preveda di andare avanti con questo allenatore che stimo veramente tantissimo. Oggi bene Lamb, 15 punti, 6 su 12, soprattutto nel primo tempo è stato lui il giocatore a tenere alta la carica della squadra pesarese che viceversa rispetto alla gara 1 dove, scusate, recuperiamo i nostri appunti, aveva avuto di più da Samford, Samford è sparito dalla serie, Moretti molto bene, 7, nonostante 7 punti con 2 su 9, stavolta T-Rick 8 punti, 9 rimbalzi, T-Rick è un giocatore, e Jones, che a me non dispiace, per intensità, sicuramente deve migliorare certi aspetti tecnici nei quali è ancora un po' indietro. L'arbitraggio, come detto, un arbitraggio di lotta libera, anche un arbitraggio combattivo, grintoso, non ho segnato il numero dei falli, però Sain, Baldini e Bartoli, 6 per Sain e Baldini, 5 per Bartoli, arbitro che non mi ha mai impressionato e anche stasera ho trovato il livello dei suoi fischi un gradino sotto quello dei colleghi, a me non dispiace, è lasciare un arbitraggio così, devo dire, purché sia assicurata la coerenza da ambo i lati, non mi dispiace neanche così tanto, però delle volte se è fallo, il fallo vandrebbe fischiato a prescite. L'avversario di Bologna, Tortona o Venezia? Tortona ha vinto Venezia, siamo 2-1, seguirò a questo punto anche la gara 4, così andremo ad analizzare un po' anche questa serie che è sicuramente equilibrata tra due squadre che sono molto vicine e sono curioso di vedere chi le spunterà. Grazie ragazzi, intanto aspetto i vostri commenti, fatevi sapere cosa ne pensate di questa bella partita e di questa grande atmosfera di questa Pesaro-Bologna, intanto vi saluto, ciao a tutti e un bacio da LOX, ciao ragazzi!